Buongiorno Andrea Miciche, Presidente di Nuovo Imaie, Istituto per Artisti, Interpreti e Esecutori. Grazie di essere qui con noi a Music Beats Café. Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Presidente, la crisi da Covid-19 ha impattato molto fortemente sul settore della musica dal vivo, fermandolo del tutto. Quanto ha influito questo sugli artisti, interpreti e esecutori? Questo è il maggior danno che ha fatto comunque la categoria o anche il blocco molto importante delle produzioni è stato accusato? Sono due danni importanti e diversi. Sicuramente il danno immediato è quello degli spettacoli dal vivo, ovviamente. È quello più evidente perché gli spettacoli dal vivo c'è un doppio blocco. Non è possibile svolgere l'esibizione dal vivo e non è possibile che gli spettatori ripatano in un pubblico locale per poterla vedere. Quindi diciamo che ci sono due buoni motivi perché non venga svolta l'esibizione dal vivo e quindi di fatto quello è stato… l'abbiamo proprio azzerato. Il settore della produzione diciamo che stiamo quasi a zero, nel senso che il settore della produzione sostanzialmente si è bloccato, ci stanno sì queste piccole performance, queste piccole registrazioni fatte in modo casalingo da molti degli artisti, però diciamo che l'unico settore che in questo momento non si è bloccato è quello dello streaming, dell'andare a vedere, dell'andare a sentire, anzi potenzialmente quello dovrebbe essere pure cresciuto in teoria, però sa, il settore della creatività è un settore che presuppone la fase realizzativa e il rapporto con il pubblico. Perfetto. Allo scopo infatti in Nuovi E-mail è istituito un fondo destinato appunto agli artisti, esecutori in difficoltà, avete già avuto dei feedback o quali sono i primi aspetti che vi aspettate da questo fondo? Allora dunque, il fondo è un fondo a cui potevano accedere soci e mandanti dell'istituto e quindi è un fondo che presuppone la partecipazione, come in effetti c'è stata, una grandissima partecipazione di soci e mandanti. Pensi che in un mese di apertura del fondo sostanzialmente abbiamo avuto oltre 4 mila domande di accesso, il fondo si chiude il 23 aprile, quindi si sta chiudendo in questi minuti e quindi posso dire che è stato un fondo molto largamente partecipato, su cui ci sono state tante importanti attese. È un fondo importante, perché noi abbiamo conferito come istituto una cifra iniziale che si doveva girare intorno ai 5 milioni, probabilmente arriveremo a 7 milioni e mezzo di Euro di fondo, quindi probabilmente adesso dobbiamo lavorare le istanze e lavorare i dati, ma probabilmente daremo più noi di quanto ha dato lo Stato. Lei all'inizio di questa emergenza sanitaria aveva parlato di mentalità da ricostruzione, adesso siamo vicini a quella che molti chiamano fase 2, quindi alla ripartenza, come si immagina lei? Qual è lo spirito col quale secondo lei gli artisti dovrebbero affrontare questa fase e anche tutta l'industria? Con lo spirito opposto di come la stanno affrontando i politici. I politici stiamo tutti vedendo uno strano e inammissibile polemica tra potere centrale, potere locale, tra poteri locali, tra di loro, tutti col dito puntato a individuare le colpe degli altri. Ci dovrebbe essere lo spirito di gruppo e il senso dell'appartenenza al paese, inteso in senso ato e all'appartenenza a una filiera, che è una filiera importante perché è una delle filiere che consenta al nostro paese di essere conosciuto in tutto il mondo. Io penso, sono convintissimo di questo, che questo momento ci farà riscoprire l'importanza del settore in cui stiamo operando, in cui operiamo e anche investitori esterni al nostro settore capiranno l'importanza strategica del settore della cultura. Io penso, credo molto nella ripartenza e la ripartenza è fatta di speranza, di ottimismo e di investimenti. Grazie mille Andrea Miciteche, Presidente di Nuovi Maie, grazie di essere stato con la Music Beats Café. Grazie a voi. Grazie a voi.